Ciao a tutti ragazzi, io sono Gattu, già io conosciuto come Gasti e oggi siamo qui perché voglio fare un video sul secondo canale, mi precisò di tagliere caso allora lo faccio solo perché così il canale si può trovare perché visto che YouTube è stronzo fin quando non si può, cioè fin quando il canale non posso dei video non posso ne far live e ne posso iscriversi al canale, quindi devo cercare in qualche modo di fare poi devo fare un altro video sul canale originale in cui dico il nome perché mi sono dimenticato di dire il nome del canale sono veramente un co**o allora però, come vedete, sono un sito di 3 sui dei 14 giorni, questo lo sai, quindi c'è la cosa cacchio lo voglio, però io voglio questo in realtà, proprio che è bellissimo ok, finalmente la venta carica, questi sono i bellissimi, i giovani si bunco però adesso vi parlo a vedere la mascotte del canale ed ecco qui la mascotte of the channel buongiorno piccolo dolce felice adesso 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 ritorniamo alla partita l'ho presentato con la mascotte del canale allora, adesso l'obiettivo di questa partita è completare la sfida e cosa bisogna fare? bene, ringraziare l'autista e arrivare in top 20 in singolo quindi mettiamoci nel posto più camper che più camper non si può ovviamente vado qui a casa, non ci sono mai andato, vediamo che cacchio c'è un tempo lì c'era il mio posto preferito mi chiamate la telematere da casa, non mi chiedete ora non sto registrando il pc perché se no non riesco a giocare ma vado al vulcano perché adesso non ho modificato il vulcano molto figo il primo con meno lutto ovviamente mi pare se una zona di cambia non ha più lutto però è normale era tanto normale ma bella l'epic fa sempre quell'istanza no niente epic fornet è un bellissimo gioco tanto da darmi il 9 di marzo e di farmi buildare con legno senza la mia volontà ovviamente manco una casa gioite le siamo già 74 tanto dopo questa partita chiudere subito il video perché serve solo per fare in modo che si può scrivere al mio canale metterò una copertina buffa darò un nome di imbarba alidio e fine metterò un nome che se cerchi un video trovi per forza quello lo chiamerò come eeeh meme no scrivo meme è troppo logico eeeh c'è gentaglia di ok c'erano gli scudi ma preferisco non morire sapete no com'è fornet è bello fin quando non perdi ari 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 basta io scappo io uso la leggendaria tattica dello scappa corri c'è un genesis non cantare per favore cameraman si scappa perché c'è un genesis corri scappa sentiamo in un tubo questa battuta è pessima dai siamo in 56 devo arrivare nei venti e posso chiaramente ammazzarmi e chiudere il video allora voi mi direte ma perchè è il secondo canale? beh ne ve lo spiegherò in un video che quando ho sul primo canale con tutta l'altra perché c'è il mio core le siamo in 49 io me la campero mettendomi qui sopra e ballando tutta la partita ah però c'è il tizio che mi segue da 6 anni se soltanto su youtube si potessero semplicemente fare i tagli senza editare ma giustamente io non so editare se non il video sarebbe di 20 secondi e basta tu seguirmi pezzo di un player sterco uno sterco di player vedi i player o sono cattivi o fanno schifo o sono di sterco mi raccomando equino o sono di sterco e qui no questa è l'unica zona che c'è il lift ora come ora quindi io direi di approfittarmi se quel tizio mi segue ancora ah ancora lì ah no mi segue mi segue che pezzo lì vedi ci sono le tavole da surf però io devo camperarmela ancora una pezza un certo basso per camperare che cacchio un lama loot ok spacchiamo di botte questo lama loot che lama bisogna bullizzarli proprio che lama bisogna bullizzarli lo sanno tutti se nella mano viene bullizzata non c'è lusso vediamo qui la confezione e dentro cosa troviamo wow una pistolina silenziata proprio quella che volevo sì sì allora un like e un'altra botte in più addosso la lama di qui il camera mi dà consigli meglio fare l'esatto opposto di quello che mi consiglio fare l'esatto identico opposto di tutto ciò che mi riesce a consigliare metto una bellissima jump potevo metterla più avanti così riuscivo anche ad entrare nel tubo che che culo che ha un airdrop dentro il coso cosa succede oh meatbuster oh meatbuster wow non succede niente che bello ma vabbè un culo ma porca di quella ci salutiamo ho fatto questo video così tanto bello grazie a tutti